Siamo la Rock Shock Crew e vi invitiamo il 15 e 16 settembre qui a San Marino di Carpi per il Rock Shock Fest. Mi raccomando non mancate! Date la notizia, ci saranno in vendita compilation, gadget, magliette, ci saranno 20 band che si esibiranno nei due giorni con i Queen Mania a sabato e Michele Luppi alla domenica. Il ricavato del Rock Shock Fest andrà devoluto al progetto Se non sei non sei di ricostruzione delle scuole di Novi e di Rovereto. Il 15 e 16 settembre 2012 a San Marino il Rock Shock Festival vi aspetta! Non mancate! Ingresso gratuito, grande musica, stand, bevande, ristorazione e soprattutto beneficenza per la nostra terra. Rock Shock Fest, rock sempre, ovunque, dovunque!